Ah! Ah! Come va? Come va? Come va! Non mette a dire il mio piede! Non è che... Non mette a dire il mio piede! Non è che... Non è che... Non è che... Vedi? Allora vedi... Qui? Qui? Ah! Ah! C'è spianecce! Ah! 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 C'è C'è il tra costume? Ah! una cazzatura Ah! Ah! 把 ули Wonderful Il tempo di... ersten Sonora Questa la dovresti al cuore? Questa la dovresti al cuore? Lo smolliamo, sto frega a mano e cominciamo a giocare. Lo guardiamo agli altri. Io ho fatto certo dichiarazione e inizio partita. Capito, 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 Capito... Così, che cosa deve essere? Chiudi? Il cuore è stretto. Dov'è? Capito! Grazie a tutti. La seconda è un po' più scarsa. 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 La seconda è un po' più scarsa.